Signore e signori la gradinata sport Buonavisione Benvenuti alla gradinata sport Buonasera a tutti Buonasera Martina Maimeri Buonasera Gennaro Buonasera Allora prima di iniziare la nostra trasmissione chiaramente la gradinata sport che sicuramente oggi è in festa per questa impresa lasciatemi passare il termine del Cagliari a Torino è doveroso ricordare un amico della gradinata sport che vi ricordo la gradinata in punta di piedi quest'anno fa la bellezza di 30 anni insieme alla sorellina per la strada ebbene è venuto a mancare una persona che io ho descritto sui social sempre in punta di piedi parlava molto poco però quando c'era la sua presenza si sentiva era un pacere era colui che portava un po' la pace quando magari i toni si alzavano troppo quando aiutava in silenzio ha aiutato tanti amici della gradinata e noi lo sappiamo chi sono pertanto noi salutiamo Antonello con un grosso e caloroso applauso le condoglianze ovviamente a tutta la famiglia mancherai a tutti quanti noi però sappiamo che da lassù come si suol dire proteggerai tutti quanti ci guarderà sempre ci guarderà sempre bene detto questo allora the show must go on come siamo soliti dire quando purtroppo accadono queste situazioni allora torniamo a parlare del Cagliari insomma una vittoria colossale fatemi passare il termine colossale che stavamo pure per vincere tu che dici? eh appunto tu perché ti favi? indovina potevamo vincere tranquillamente potevamo vincere tranquillamente gli episodi non ci hanno aiutato eh vabbè tra l'altro so che non so se lo sapete anche voi ma il Cagliari ha il record dei pali delle traverse in questo momento compreso sfortunatissimi esatto per non farci mancare niente abbiamo preso un palo pure ieri vabbè comunque una cosa è certa è stata una giornata del trionfo fatemi passare il tempo per gli emigrati per gli emigrati di Torino che salutiamo tutti io conosco il circolo sardo conosco il vicepresidente l'ex presidente so che avete cantato ballato e festeggiato e vi fate una settimana proprio di canzoni perché ve lo meritate detto questo cara io direi di iniziare subito col nostro mitico facciamo un balletto io e te tac tac anche se in televisione non si può fare e salutiamo subito Sergio De Muru inviato di Tutto Sport grazie grazie allora Sergio insomma giornata epica ma sì Cagliari ha tirato fuori un punto dalla trasferta di Torino un Cagliari che sta crescendo si era già visto a Parma la vittoria di Parma è stata come dire una sorta di viatico e poi c'è stato questo pareggio di Torino che io direi anche meritato se entra il tiro di Obert che colpisce il palo abbiamo detto prima appunto il Cagliari è una di quelle squadre che può recriminare su pali traverse riusciamo anche addirittura a portare via l'intera posta quindi una squadra però ecco io come dice giustamente Nicola e ce l'ha detto in conferenza stampa una partita non può fare testo adesso la squadra comunque sta crescendo i risultati io credo che arriveranno anche perché insomma la situazione sta migliorando notevolmente anche dal punto di vista fisico ha sbagliato una partita come dice Nicola a Empoli ma secondo me ha sbagliato anche la partita a Lecce a prescindere dai pali sono state due sconfitte come dire che pesano però adesso finalmente si vede qualcosa di positivo si vede un gioco in orizzontale che prima latitava e poi abbiamo anche tutti questi giocatori che riescono a segnare io ho visto a Parma la rete di Zortea che si è inserito benissimo ho visto il gol di Marin che era un euro gol lì a Parma e lo stesso Marin è stato freddissimo allo Juventus Stadium a pareggiare la rete che aveva fatto Vlaovic sempre su rigore quindi io sono assolutamente ottimista e certe critiche forse erano anche esagerate bisognava che la squadra si assestasse e mi pare che Nicola sia al comando di un gruppo coeso che possa ancora migliorare con l'andare del tempo bene allora io direi stavo facendo una scenetta con Carla vero Carla ne stavo facendo la linguaccia poi dopo faremo una sorta di come era Portobello quando si rincontravano quelle persone che avevano avuto sai avevano avuto le discussioni no poi c'era il buon Enzo Tortore che faceva rincontrare dopo anni e anni che non si vedevano non si parlavano quindi faremo una sorta di Portobello fra pochissimo ma lo diremo dopo intanto voi scherzate e ridete intanto l'amico cantante Giacomo porta bene io ve l'avevo detto faci tu cantare a Giacomo che porta bene allora Ciro sei ovviamente contento perché chiaramente il Cagliari ti ha dato soddisfazione ti ha dato anche ragione perché tu eri uno dei pochi insieme agli altri anche Italo e Antonio e altri che nutrivano qualche speranza di rivalsa e che prima o poi si sarebbero svegliati ora però speriamo di non perdere questa scia godiamoci ogni partita che stiamo facendo il Cagliari sta crescendo Nicola sta trovando la quadra centrocampo adesso con il nuovo binomio di Macumbu a dopo sta cercando sta trovando una certa solidità e poi soprattutto la voglia l'approccio alla gara sono tutti propensi ad attaccare abbiamo visto dall'inizio della partita Ugello Zappa che andavano a contrastare al centrocampo diciamo che è un punto guadagnato cioè non è che non ce lo siamo meritati però la Juventus ha avuto 4-5 occasioni c'è ancora negli occhi quel piattone di Vlaovic che ha buttato fuori da due metri Scufet ha fatto una grande partita ha fatto delle bellissime parate anche se continua a respingere centralmente anziché lateralmente però una buona squadra che ha lottato sino alla fine per mera sfortuna l'ultimo al novantesimo Obert ha mandato sul palo come dicevo la settimana scorsa che in Europa siamo secondi a pali come dicevi tu siamo arrivati a 9 il Barcellona mi sembra che ne abbia presi 12 o 13 quindi però la squadra cresce come dicevo bisognava avere pazienza perché il Cagliere il nostro non è che ogni settimana possiamo comprare vendere adesso questi sono i nostri giocatori e dobbiamo avere fiducia in questa squadra è importante muovere la classifica che vediamo quelle prime che sono andate su adesso stiamo risalendo piano ma abbiamo fatto 4 punti in trasferta che sono tanta tanta roba bene allora invece Marco adesso puoi essere brontolone perché insomma hai assistito hai assistito secondo me a una partita talmente bella ma talmente entusiasmante che insomma ti sei riconciliato con il Cagliari e con il calcio diciamo in parte sono d'accordo con te sto rivedendo le mie strategie psicologiche fisiche per quanto concerne il cammino nel campionato del Cagliari obiettivamente il pareggio di ieri contro l'Aventus assume anche nel mio concetto calcistico una grande rilevanza vogliamo ricordare che la Juve insieme al Napoli all'Inter ecco punta a un ruolo importante sia in Italia che in Europa e poi dobbiamo ancora ricordare che la squadra bianconera è ricca di talenti calcistici giocatori che sono proprietari di quella tecnica come poche squadre al mondo poi avvezza ai trionfi calcistici già da molto tempo era difficile strappare un risultato utile anche perché c'era l'annomea che la squadra bianconera non era ancora deflorata ecco nelle reti passive è stato il Cagliari ecco a rompere a creare questo peccato mortale di non rendere più illibata la difesa Juventina e questo va a merito al Cagliari questa volta caro Genare cari amici radio televisivi cari amici telespettatori dicevo radio ascoltatori ero ottimista dopo la superba e portentosa partita giocata a Parma questa volta caro Genare avevo trovato in me come si dice la convinzione che in effetti la squadra aveva riscattato l'onta subita Cagliari l'onta subita Cagliari con l'Empoli e camminasse verso traguardi più luminosi e ieri ha dato la conferma i capisaldi difensivi in modo particolare come c'è Mino e anche Luperto sono dei grandi grandi giocatori certo e sono Anna Niki Mino Mino che è Nino Mino adesso gioca con quattro ma io e tanti di noi abbiamo sempre rivendicato che i capisaldi difensivi come il Cagliari devono giocare in quattro poi questa cultura macchiavelica di due centrocampisti ad OPP se non vado e manco bu ecco stanno dando una fisionomia e poi altri in avanti altri due giocatori del valore di Viola e la classica punta piccola sta dando ottimi risultati e per la prima volta anzi la seconda volta non è qui i lanci lunghi fino a se stessi per piccole ha ragione chi mi ha preceduto sia sulle fasce giocano corrono anche loro ieri abbiamo parlato anche di come si chiama quel giocatore ha giocato sulla fascia sinistra prima ugello esatto partecipa al gioco diciamo anche i giocatori esterni adesso dicono esterni concorrono questo è un fatto positivo e poi anche la profonda convinzione giocatori che non sono gli ultimi ecco emarginati del calcio italiani che hanno delle capacità tecniche io mi auguro che l'allenatore continua a spalmare appunto la squadra convincerla ad avere ambiziosi superiore alla solita salvezza io me lo auguro per il canovaccio che si sta presentando ai nostri occhi e obiettivamente ecco ci autorizza a pensare che l'ottimismo non è solo un qualcosa di filosofia calcistica ma può diventare una realtà per tutta la difusione del Cagliari va bene va bene va bene senti io direi di ascoltare al volo il signor Gavino che sta laggiù lo vedete piano piano lo raggiungiamo lo raggiungiamo il signor Gavino e facciamo un applauso a Martina ragazzi perché insomma Roberto è paralizzato per un attimo Roberto perché c'è gli occhiali scuri si può parlare perché c'è gli occhiali scuri si può ah sono quelli di Diabolic quelli allora Gavino sei riuscito a sentire la partita sì sì qualche uno magari di voi come generale in generale sono tutti contenti questo punto prezioso grande prestazione però se tu analisi poco a poco la partita è vero anche che siamo stati fortunati nel senso aspetta ma io veramente sono senza parole guarda fai parlare guarda e fai parlare anche Roberto scusami Martino no 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 vabbè ma ha ragione anche Roberto a dirlo dai ma di che stiamo parlando a casa mia a casa tua non si senta la radio probabilmente ma che pazienza cioè ma che partita hai sentito ma che stai dicendo a casa mia funziona che quando uno sta parlando finisce il discorso e poi e che finisce il discorso dicendo che è stato fortunato ma se non me l'avete fatto finire il discorso ragazzi vabbè fallo finire dai fate arrabbiare Gavino siamo stati fortunati perché se il giocatore della Juventus che ha segnato il primo gol avrebbe segnato anche il secondo era una partita finita ma cosa c'entra io la penso così ma per favore facciamo ecco grazie allora finisci finisci di finisci il concetto il concetto l'ho già finito dunque per me è un risultato positivo che va bene però se analiso la partita il Cagliari ha giocato ha fatto una bella prestazione ha giocato bene però il paleggio va bene però se tu analisi bene bene il secondo gol che avrebbe fatto vabbè vorrei fare vorrei fare una domanda seria no 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 una domanda seria una domanda serissima che tutte le spettature milioni di persone veloce veloce da quando è che non vai dal medico tu no lui parla di otorino però otorino otorino vieni eravamo pure vieni Lorena sta parlando dell'otorino visto che la partita si giocava a Torino quindi ha fatto una battuta prego pubblicità ci vediamo dopo ciao a tutti ciao 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 rinunci alle cure per paura del dentista scopri i nostri protocolli senza stress centro odontoiatrico San Paolo siamo a Selargius in via San Paolo 18 dove il sorriso è di casa farmacia Virdis cura e salute sono al centro del nostro lavoro offriamo una vasta gamma di prodotti e servizi affidati alle nostre competenze farmacia Virdis la tua farmacia profumeria l'orchidea blu tutti i profumi delle grandi marche tutto per il tuo make up e la cura della persona inoltre tante idee regalo puoi presentarti al meglio in ogni occasione vieni a trovarci siamo a Quartuccio in via Rosselli 31 questa è la nostra pasticceria naturalmente Cirronis da gustare a San Luri con pane tipico e dolci sardi d'autore da quasi mezzo secolo Cirronis vivi la vita con qualità e gusto eccoci qua siamo rientrati con la gradinata buonasera a tutti Martino oggi non troviamo pace cosa dobbiamo fare qua cosa dobbiamo fare qua non so che dirti avrei una richiesta da farti genaro se è possibile prego ci mancherebbe ok io ho due amiche molto care a cui vengo che vorrebbero essere salutate da te sono due tue fans come si chiamano ok Elodie Crabu e Francesca Murgia il nome della prima Elodie Elodie e Francesca ciao dagli amici della gradinata e anche da me siamo a posto vorrei fare anche una dedica se è possibile velocissima allora io quest'estate sicuramente io ve l'ho detta che poi dopo non la fermiamo più prego quest'estate sicuramente non ho trovato l'amore della mia vita però ho conosciuto due persone fantastiche che sono queste mie amiche ecco qua l'amicizia e quindi vi voglio bene viva l'amicizia viva l'amicizia va bene cos'è che hai detto tu? va 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 lasciamo perdere cioè un applauso anche io lo farei anche a Silvio che sta facendo l'acrobata è un polpo un polpo che che muove due braccia i piedi il gomito di tutto va beh però bravo allora adesso facciamo parlare Carlo che come al solito c'è il cagnolino che lo aspetta prego ma sto cagnolino non perché non do porti a pressa eh posso anche portarlo adesso chiederemo vediamo se riusciamo a portarlo è la mascotte della gradinata eh vabbè non mi piace un cani portalo ti prego eh eh tornando al Cagliari finalmente eh tre settimane fa avevo detto che eh Nicola ci doveva dare prova di miglioramenti eh la prova c'è stata perché Nicola finalmente ha trovato una quadra quanto sia perfetta non lo so però una quadra l'ha trovato finalmente è riuscito a fare un centrocampo che funge da centrocampo ripeto questo nonostante voi siete la settimana scorsa non eravate d'accordo per me continua per il momento a non essere indispensabile De Iola perché De Iola non è un centrocampista per me va beh lasciamolo tranquillo sto ragazzo lo so perché a voi non io però la quadra è questa Nicola per il momento lo può mettere anche nel secondo tempo anche se ieri l'ha messo nel secondo tempo stava per fare il patatrac però eh tolto questo finalmente ha trovato la quadra da confermare questa quadra da migliorare perché io non sono un allenatore Italo e Antonio si sapranno spiegare meglio di me però qualche pecca ancora c'è qualche pecca ancora c'è però la quadra l'ha trovata finalmente un centrocampo lo abbiamo l'abbiamo trovata e abbiamo anche gli elementi per sostituire questi giocatori perché è rimasto fuori prati è rimasto fuori felici perciò se questa è la diciamo l'andazzo io sono sicuro che il Cagliari potrà fare il suo campionato tranquillo senza pensare ad altezze però vogliamo bassi per me il Cagliari ieri ieri come a Parma ha giocato bene anche se avesse perso avrei detto che ho visto una bella partita perché io in effetti ho visto una bella partita io sono d'accordo io sono d'accordo con te penso un po' Sergio vogliamo ricordare la Gazzetta Sarda così salutiamo gli amici certo certo io li nomino volentieri la Gazzetta Sarda perché è un gruppo di lavoro veramente come dire coeso compatto con Pasqualino Trubia che è una sorta di factotum e lo ringrazio anticipatamente e sempre per tutti i pezzi appunto che mando e che lui riesce a impaginare con la sua solita maestria quindi sì Gazzetta Sarda e seguiamo oltre il Cagliari naturalmente seguiamo la Dinamo seguiamo anche le altre squadre sarde siamo in attesa e spero che adesso si riprenda definitivamente dell'amico Giorgio Sainz che viene qui che ha avuto un attimino così qualche problemino facciamo un applauso a Giorgio che lo aspettiamo lo saluto e gli dico gli dico che lo aspetto lo aspetto molto molto volentieri perché è una persona preparata e competente assolutamente sì abbiamo fatto bene fatto bene salutare Pasqualino e tutti quanti dalla Gazzetta Sarda perché poi quando ci sono giovani che fanno queste attività a noi ci riempie di gioia perché sono tutti ragazzi alla fine sicuramente i giovani ricordiamo che sono il futuro io mi sono sempre battuto per appunto portare avanti questo discorso dei giovani purtroppo in questo momento ci sono tantissime c'è un come dire un traffico di testate online però ecco e devo dire le testate online stanno superando pian piano addirittura le testate le testate i giornali tradizionali quindi niente ecco il futuro è loro e dei giovani e mi auguro che vengano che vengano sostenuti grazie Sergio ringraziamo ovviamente gli amici della Gazzetta Sarda grazie che spesso e volentieri parlano anche di noi e quindi a noi ci fa molto piacere tra l'altro come diceva Sergio De Muro portiamo la linea di Antonio e poi all'amico Italo e poi a te cara Martina ti darò l'onore di far parlare il gran Roberto che già si sta emozionando però siccome Sergio ha aperto una piccola porticina che invece è un portone perché in realtà quando si parla oggi di dati eccetera eccetera in effetti quello che dobbiamo non so come dire dobbiamo farcene una ragione via è che sui social ormai c'è veramente tantissima gente è una cosa che un po' mi inorgoglisce adesso vi dico perché mi inorgoglisce e ci deve inorgoglire perché mi sono arrivati i dati da gennaio a fine settembre della pagina pubblica generale Longobardi dove dentro come ben sapete mettiamo la gradinata a sport mettiamo per la strada e tante rubriche grazie appunto a Cagliari Capitale i fratelli Piga che riescono a gestire questa pagina pensate che in nove mesi la pagina ha ottenuto una copertura di 4 milioni e 600 mila è stato frantumato frantumato il record dell'anno scorso a dicembre dell'anno scorso avevamo 3 milioni 960 mila come copertura adesso a settembre abbiamo già abbondantemente superato con una percentuale pensate del più 175% quindi noi ringraziamo ovviamente con applauso tutte le persone che ci stanno facendo volare con questi numeri tutte le persone che scrivono che condividono e che commentano grazie 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 a tutti caro Antonio Martini tu sei pronto per andare poi da Roberto allora Antonio beh alla fine metti le pedine al posto giusto e che cosa otteniamo? si otteniamo quello che effettivamente si deve avere però ragazzi qua a me piace ascoltare e dico la mia non mi piace dire quello che dicono gli altri perché mi piace quello che vuole no no ma li condivido è tutto giusto quello che si dice però faccio notare una cosa che il calcio sia a Gavino che agli altri voglio dire che è tutto pieno di sé se succede questo se succede l'altro se succede quell'altro Ciro tu lo sai abbiamo giocato a pallone lo sappiamo se tutto quello dei sé li togliamo chissà quante cose succederebbero in campo allora lascio a perdere questo se succederà questo o succedere all'altro non è successo anche per il Cagliari c'erano dei attenuanti di dire se sarebbe stato questo è appunto è normale allora sì che anche per quanto riguarda non è che voglio fare un riprovero a Gavino ci mancherebbe altro i sé nel calcio esistono in 90 minuti ci sono 70 minuti di sé però i sé li lasciamo stare andiamo a analizzare la partita che è successo basta allora io quello che vado a analizzare è una cosa molto importante ragazzi non è perché sia stata una mia personale questa questo questo che sto dicendo ma è un fatto oggettivo in campo noi qua alla gradinata ma non solo quest'anno anche l'anno scorso abbiamo recriminato l'utilizzazione di viola ragazzi qua si è verificato quello che noi abbiamo detto per cinque giornate perché l'abbiamo detto per cinque giornate su viola e oggi viola se va utilizzato come il sottoscritto ha sempre detto ricordate che due elementi in campo compreso primo e secondo tempo fa un elemento unico nella partita e poi Italo spiegherà quello che voglio dire io perché a livello di calcio sappiamo cosa vogliamo dire sì che un calciatore non va utilizzato se non è servibile non è servibile un giocatore se a un certo punto la squadra è in svantaggio e deve recuperare quei due o tre gol ragazzi qua è chiaro è inutile che andiamo a girarci intorno purtroppo Nicola sì io sono d'accordo con qualche ed uno che stava studiando facendo e compagnia bella ma noi non abbiamo studiato niente abbiamo sempre detto e che di fatto ci dà ragione che viola andava utilizzato dalla prima giornata ragazzi qua è inutile che andiamo a girarci intorno non dobbiamo nascondere niente dobbiamo dire quello che dobbiamo dire è quello di sentirci di dire allora voglio dire questo due secondi che Sergio vuole aggiungere no condivido quello che sta dicendo Antonio però io gli ho fatto proprio una domanda nella conferenza stampa prima di partire a Torino e lui mi ha risposto questo mi ha detto viola non stava bene fisicamente per cui io lo utilizzavo per parte di partita così mi ha detto lui è chiaro che gli allenamenti li vede lui Sergio però contesto una cosa tecnica da allenatore se non stava bene perché giocava il secondo tempo mezz'ora e perché non lo faceva giocare il primo tempo che era più utilizzabile la seconda pedina nel secondo tempo non viola ragazzi parliamo parliamo di calcio fai rispondere no ma è giusto giusto quello che dici tu lui mi ha spiegato che non aveva come dire l'autonomia per andare oltre i 90 minuti guarda Sergio io dico la spiegazione dell'allenatore no no Sergio non discuto io discuto il discorso tecnico da allenatore io da allenatore a viola lo facevo giocare dal primo tempo nella prima giornata perché non è non è non è sfruttabile un giocatore che sta male farlo giocare gli ultimi 20-30 minuti perché se sta male nei 20-30 minuti giochevamo in 10 allora ragazzi è un discorso tecnico che questo bisogna bisogna un po' analizzare la cosa quando si sbaglia si sbaglia stop però c'è una cosa sta recuperando Nicola sta recuperando quello che noi volevamo sulla critica che noi abbiamo fatto e ben venga poi per quanto riguarda la partita ragazzi io non vado a ripetere quello che ha detto Ciro perché è giusto quello che ha detto analizzato la partita sia sia dei mammeri io condivido quello che si è detto il Cagliari ha meritato la partita ha giocato bene logicamente come qualche ed uno fa notare c'è qualche deficit all'interno della squadra a centrocampo non è vero che il centrocampo è perfetto ragazzi qua e Macumbo sono d'accordo ha migliorato però c'è una cosa deve migliorare e deve metterci più grinta secondo me secondo la mia veduta io ho guardato la partita il Cagliari deve andare avanti così logicamente c'è una cosa che Nicola deve far giocare chi è in forma chi è in come non stiamo lì andare a criticare a De Iola De Iola se le si dà un ruolo stabilito per lui io come allenatore lo sfruttavo diversamente De Iola non è un centrocampista dove per dire crea crea l'azione è vero regista De Iola è diciamo un mediano dove gioca in campo marcando l'avversario perché purtroppo non è un costruttore però se le diamo un giocatore da marcare da seguire De Iola fa il suo dovere poi sul discorso tecnico ragazzi anche io ci metto allora intanto mentre Martina fa arrivare Lorena è quella di preparatevi Paolo tu che ne pensi di questa partita questo trionfo cosa devo dire che è stato un punto d'oro che il Cagliari ha meritato e non c'è che vogliamo fare retrofront e mi auguro che la prossima a Torino a Cagliari il Torino gioca a Cagliari che si dia da fare per un risultato positivo poi parliamo dopo di questo feste pure a te allora Martina invece è arrivato il momento della pubblicità Martina ti voglio troppo bene sono molto affezionata da te anche io anche io anche io quella crema che cercavo da sempre il mangime che piace a fuffi ed il mio integratore ad un prezzo imperdibile parafarmacia biofarmapet via sidney sonnino 98 Cagliari natura scienza e convenienza Ristorante Il Volo location elegante ampio e versatile con le sue due sale ogni sera e una festa menù raffinati per ogni palato cornice perfetta per ogni ricorrenza Franco Sandro e lo staff vi aspettano per servirvi al meglio Ristorante Il Volo via Monte Cassino 52 Pierri 070 523 090 Profumeria l'Orchidea Blu tutti i profumi delle grandi marche tutto per il tuo make up e la cura della persona inoltre tante idee regalo puoi presentarti al meglio in ogni occasione vieni a trovarci siamo a Portuccio in via Rosselli 31 gelateria Peter Pan gelati semifreddi e torte il gelato artigianale è per tutte le occasioni per tutte le stagioni per tutte le emozioni e poi tutti sono fan del gelato Peter Pan nuova apertura in via Dante 83 B eccoci qua siamo rientrati con la gradinata Sport allora vi ricordo una cosa molto importante che è iniziato anche un altro conto alla rovescia cara Martina perché anche quest'anno ci sarà il miracolo di Natale e quindi poi avremo modo di sentire le news da parte di Nicola Oiga come ben sapete è il direttore fu eletto direttore dal sottoscritto del miracolo di Natale quindi ci illuminerà per ricordare a tutti quanti quanto è importante in questo momento storico l'edizione di questo miracolo di Natale è inutile che ci giriamo intorno come ben sapete la Sardegna vive momenti molto bui a partire dai abbiamo sempre detto dallo spopolamento dalla mancanza di lavoro grande problema grande problema anche per abbiamo problemi anche per quanto riguarda la sanità insomma maglia nera come ben sapete l'avevamo già detto lo ripetiamo per i bambini che nascono in quest'isola insomma devo dirvi che il miracolo di Natale servirà moltissimo a tante famiglie che sono in difficoltà più che mai proprio esatto più che mai e soprattutto state attenti a non bendarvi a non bendarvi perché non è vero quando uno dice ma è mai possibile che a Cagliere o in altre città della Sardegna ci siano tante famiglie in coda per andare a prendere le buste della spesa purtroppo ci sono a me dispiace ma purtroppo ci sono basta mettermi nella vostra macchinina andate nelle varie caritas e vedrete che verso le 11 e mezza poi Gavino ci saprà dire più o meno a che ora vanno a mangiare lì a che ora vanno le 11 e mezza vedete una fila di persone persone normalissime che vanno per mangiare siamo nel 2024 pensate voi va bene allora io direi di far parlare Roberto così finalmente sarete vicini vicini prego posso ti ringrazio ti ringrazio perché sono tra due non tra due fuochi ma tra due vabbè mi raccomando parliamo bene vogliamo parlare di calcio vogliamo parlare di calcio allora posso veramente allora io lunedì ti ricordo facevo la metafora dell'aereo l'assestamento no ma me la famosa turbolenza il vuoto d'aria scusate perché c'è questo ridurino aspetta un attimo scusate se faccio un'invasione bravo Gennaro inizia a prenderli vabbè almeno è simpatico dai provatelo nel sottoscale una settimana facciamo così guarda partiamo 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 con un giallo il famoso assestamento che parlava dell'aereo appunto la metafora la turbolenza voto d'aria era la partita con l'impuli Nicola abbiamo perso in caso era due abbiamo messo in discussione Ciro anche Nicola io personalmente tu no ma come anche Sergio Mamele io però ero proprio per un avvicinamento poi evidentemente con la partita Gavino con l'impuli è successo qualcosa anche nel ritiro è successo qualcosa anche Giulini che non si sente quasi mai Valerio è successo qualcosa d'altronde la Juventus aveva la regola del 3 a 0 mi sono visto un po' le statistiche Sergio ha fatto il 3 a 0 al Como lo 0 a 3 al Verona e lo 0 a 3 al Genoa dunque era una squadra che aveva la regola dei tre gol due in trasferta e uno in casa con la prima giornata e col Como sei partite tre vittori e tre pareggi di cui ieri la settima partita ha pareggiato come diceva Gennaro con il rischio anche di vincere ho visto al primo tempo 361 passaggi Daniel noi soli 96 Martina senza per contare il possesso palla Martina sempre al primo tempo 77% per loro e noi sempre al primo tempo 23% dunque era catastrofico sia il possesso palla che i passaggi però il calcio come diciamo tante volte tutti quanti ma meglio il calcio è questo una Juve che non so Martina se ci ha sottovalutato o si è accesa qualcosa è normale che qualche luce sia accesa ripeto per questa fattidica partita con l'Empoli dove a livello di spogliatoio ho visto psicologico bravo ho visto successo qualcosa evidentemente anche la società la società forse non dico che non è vicina però si dovrebbe far sentire quando Giulini si fa sentire insegna Cellino Valero Cellino era uno che sceneva negli spogliatoi e fracasava tu batteva i pugni Martina però Giulini non è così però basta anche la parola di quella famosa pubblicità basta anche la parola come diceva per il caffè la famosa pubblicità basta la parola e ci beviamo un caffè e il caffè ce lo siamo bevuti ieri quasi 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 ti dovresti far ricoverare tu e lui entro oggi perché poi io sono tranquillo e sbotto vedete scusate scusa ma perché non ti togli gli occhiali che ti voglio vedere in faccia perché se io mi tolgo gli occhiali sono come la meloni ma non è finita passo indietro prego aia aia espulsione diretta prego ci vediamo dopo ci vediamo dopo dove stai andando da qua devi andare non ride più fuori uno posso baciare il conduttore no prego prego dunque detto questo adesso abbiamo due settimane di tempo c'è questa national league che francamente con questa e beh ragazzi miei qua c'è la doppia espulsione ragazzi qui giochiamo qui giochiamo in nove oggi tanto voi vai vai vattene pure tu vai grazie prego è stato un piacere portati anche il giubbotto vai salta salta dal palco vai vai vattene salti giù salti vediamo in quanti rimaniamo prego giochiamo in nove oggi battiamo il record prego vinciamo la partita Martina silenzio allora dunque è chiaro adesso abbiamo due settimane di tempo allora non so se un bene concludo veloce non so se un bene o un male questa sosta Gennaro perché non dico che il Caglia è lanciatissimo però si è creato il presupposto direbbe il Gran Ventura un presupposto di questo gruppo e ieri è stato un mina straordinario ha francobollato Martina Vlaovici che non è un cliente facile è vero che come ha detto mi pare Mammelio chi sia con quel piatto mi pare di Ciro no con quel piatto ha sbagliato il pallone il 2 a 0 lì sarebbe stato però ha blindato letteralmente Vlaovici un mina che poi è stato non provocatorio ma ha spiegato anche il perché il gestaccio nella curva a parte che ci hanno lanciato di tutto quando abbiamo festeggiato un 1 a 1 e poi lui ce l'aveva per chi ha mandato via la Juventus quadrato dunque il gesto era il quadrato qualcuno l'ha visto in un'altra maniera ma il gesto era quadrato il quadrato perché quadrato è stato cacciato via malamente dalla Juventus dunque essendo suo nazionale nella Colombia ha difeso il suo compagno dunque è stato un gestato non provocatorio ma a livello di difesa dunque siamo contenti un buon punto un buon punto adesso ci sono queste due settimane ricarichiamo le batterie però ripeto non so se questa sosta è un bene o un male va bene Ciro voleva aggiungere questo gesto provocatorio non si fa di fronte al pubblico abbiamo fatto gol qualsiasi cosa succede non bisogna andare sotto i tifosi avversari per esultare e creare quella situazione secondo me ha fatto male ha fatto male a fare quel gesto io sono d'accordo con Ciro se è così o cosa però non si fa ha fatto bene non l'ho detto Roberto però voglio dire che secondo me non si fa a prescindere perché tu già hai già hai un pubblico che di per sé non aspetta altro poi gli vai a provocare buonanotte ai suonatori allora sentiamo Italo mentre Martina poi si prepara con Lorena tra non poco avevi ragione tu però hai detto che poteva succedere di tutto io non scopro niente qua abbiamo Ciro Formisano abbiamo Antonio che hanno toccato abbiamo toccato con mano che la partita qualunque sia l'avversario non è mai scontato sono sempre della stessa avviso anche perché mi è toccato molte volte di bloccare terzo ultimo in classifica la prima la capolista in casa propria e dopo devo ripetere le stesse cose perché in quei casi l'allenatore è scogita gli uomini giusti in formazione le posizioni giuste le accoppiate giuste io ieri non è stata la prima volta forte in questo campionato è stata la prima volta ma tatticamente perfetta parlo di posizioni e di distanze quando le distanze in campo nella nostra metà campo sono quelle giuste la copiata si vede da non dare spazio e tempo all'avversario erano in difficoltà abbiamo visto la Juventus che ha fatto non so quanto possesso palla senza tornava indietro con la palla sperando che da dietro da noi si aprisero i varchi non avveniva tutto questo allora caro Nicola tu crei un precedente se queste cose possono essere fatte in tutte le partite ogni partita ha una storia diversa dall'altra ogni squadra ha elementi diversi adattiamo allora studiamo bene le cose e possiamo ribadire ogni partita le attenzioni le prudenze le accoppiate giuste la formazione giusta ci sono lo sappiamo ogni partita lo ripeto è diverso dall'altra ogni avversario è diverso dall'altro a centro campo Turan era vittima di Adopo mi pare e Locatelli di Macumbu quello che era più vicino gli andava anche se scambiavano l'avversario momentaneamente era una Juve in piena evidente difficoltà l'hanno visto tutti quando non riuscivano a portare avanti un invito alle punte non è perché là dietro si stavano comportando bene hanno tentato tanto le frecce sono due a destra con 6 sao e non riuscivano a mandarla avanti se non in qualche caso sporadico ma se riusciva in mezzo all'area di rigore c'era Quelmina o Luperto che non hanno dato spazio a nessuno alla sinistra c'era Cambiarzo sul quale raddoppiava o Zortea o Zappa strano a dirsi ma il raddoppio è stato puntuale qualche volta non è stato puntuale ma la maggior parte delle volte è stato perfetto quindi una Juve in piena difficoltà nervosa la 2 a 0 che ha sballato ha avuto fretta era nervoso l'ha buttato nettamente fuori quando si incontrano avversari presunti più deboli non dico che l'abbiano snobbata perché il merito è del Cagliari non è della Juve il merito è del Cagliari caro Nicola queste partite non le ho viste prima e potevano essersi fatte e questo non lo capisco e io non avrei mai tolto a Viola l'ha detto bene Antonio Viola non si può ho visto delle aperture l'abbiamo viste tutti 2-3 volte aperture da 40 metri ma questo è il regista io non mi sto inventando nulla caro Nicola cosa mi come si chiama l'ultimo arrivato non l'avrei buttato in campo ma non solo ieri ma anche in qualche altra partita allora tatticamente ma l'allenatore è lui le cose le vede lui che dobbiamo dire nulla possiamo solamente mettere i puntini su lì ma il senno di poi è facile nel calcio non esiste la controprova possiamo solo pensarlo però resta di fatto che il Cagliari tatticamente le posizioni le ha copiate le ha fatte bene e a dopo io non l'avrei mai tolto questo ho fatto di cambiare 3, 4, 5 uomini ma non è facile caro Ciro Formizano tu l'hai visto dal vivo non sempre si entra in partita entrando dalla panchina a freddo chi esce fuori aveva già preso le misure dell'avversario il passo i tempi perché cambi queste cose ma non esiste per sfruttare 10 minuti di freschezza fisica di fiato ma se siamo in forma tutti quanti non ne tocco manco uno a ieri gli è andata bene altre volte non gli è andata bene va bene va bene allora nel frattempo abbiamo un minuto e mezzo io penso che un minuto e mezzo Martina possiamo ascoltare da Nicola Oi scusate le novità che riguardano appunto il miracolo di Natale che così ricordiamo l'edizione e soprattutto quanti sono più o meno i comuni che aderiscono però magari non menzioniamoli ancora se non abbiamo ancora la certezza sono tanti però sì sono tanti ovviamente come hai detto prima il miracolo di Natale si farà è necessario è necessario per i motivi che hai detto ed è necessario anche perché come sai bene io mi occupo di diritti umani quindi stuzzico sempre le persone affinché mi tirano fuori i loro pareri e quello che emerge sempre è che o ci si aiuta dal basso tra virgolette cioè tra cittadini senza aspettare che arrivino le istituzioni anche se sappiamo che il loro lavoro lo fanno e lo faranno ma dobbiamo essere i primi noi a dare una mano a darci una mano vicendevolmente ho iniziato i primi contatti con i responsabili delle varie città dove si svolgerà il miracolo di Natale e quelli dell'anno scorso si stanno confermando ti dico che c'è entusiasmo perché alcuni di loro mi hanno contattato prima che fossi io a fargli la telefonata e questo è molto interessante un altro anche stamattina chiedono la data perché vogliono già iniziare l'organizzazione chiaramente la data ancora è presto per darla ci sono dei comuni che dall'anno scorso hanno chiesto di poter partecipare al miracolo di Natale per cui contiamo su un'edizione più numerosa in termini di comuni diciamo sempre purtroppo perché questo indica la necessità però possiamo dire per fortuna dal punto di vista della volontà ad essere solidari nei confronti degli altri bravo Nicola vieni Lorena vieni al centro vieni Martina allora ha detto bene ha detto bene Nicola quando noi parliamo del miracolo di Natale aggiungiamo sempre purtroppo cioè uno dice ma come non deve essere contento che aderiscono tanti comuni certo noi siamo contenti perché vuol dire che c'è tanta solidarietà in Sardegna lo sappiamo però ci dispiace perché in effetti come abbiamo sempre detto il giorno più bello della mia vita sarà quando non ci sarà più bisogno di nessun miracolo di Natale in tutta la Sardegna ma finché ce ne sarà bisogno il miracolo di Natale ci sarà prego allora volevo fare due saluti volevo salutare gli operatori tutti gli operatori del miracolo di Natale e volevo salutare anche Alessandro ciao bello ti voglio molto bene sono innamorata di te da 31 anni ciao bello ciao pubblicità dichiarazione autocarrozzeria Sandro Cirina verniciatura a forno banco riscontro millimetrico box tintometrico piano aspirante zona carteggiatura igienizzazione auto soccorso stradale e auto sostitutiva via benjamin franklin 3 selargeus autocarrozzeria Sandro Cirina vent'anni di esperienza questa è la nostra pasticceria naturalmente cirronis da gustare a San Luri con pane tipico e dolci sardi d'autore da quasi mezzo secolo cirronis vivi la vita vivi la vita con qualità e gusto sta contagiando ragazzi non fa va bene andiamo a vedere la pagella di Carla vai martina e poi dopo facciamo un altro giro perché ci aspetta il Torino da un attentato dopo la sosta scuffette sarebbe stato sei e mezzo ma sette perché para tutto tranne il rigore però intuisce la direzione e quindi dai un pochino Zappa cinque e mezzo bene in avanti ma nella fase difensiva fanno quello che vogliono gli avversari Mina sei e mezzo l'unico vero regista della difesa abbastanza lucido anche per spazzare via il pallone quando necessario non che forse l'unico che sa marcare a uomo con controllo visivo Luperto cinque e mezzo un battesimo anche per lui questa settimana che regala il rigore però non è colpa sua quindi sto facendo una battuta in qualche modo semplicemente tenendo le mani alzate durante la discesa di un salto dove peraltro ci sarebbe fallo in attacco intervengo solo un secondo perché chiaramente se no sembra che qua allora no è una battuta no no ma non per questo io ti ho detto di mettere i voti però non si può mettere dei voti così bassi con una partita fatta e allora 5 e mezzo 5 e mezzo non è possibile dai è troppo basso Carla così è proprio no ma non mi si può allora ho capito o mi metti il bavaglio o me lo togli no ma non è mettere il bavaglio io posso contestare i tuoi voti però eh in maniera civile io li contesto prego si sa che le regole con le strisciate cambiano per cui anche se non c'è deviazione il regalo infiocchettato di bianco o nero arriva puntuale Obert 5 passano tutti la sua zona viene ritassettata prateria libera solo un palo sul finale calciato da fuori lo salva da una valutazione anche peggiore Zortea 5 e mezzo appannato contro la grande squadra si evidenzia il suo non essere ancora abbastanza intraprendente per prendersi sui spazi va bene però aspettiamo le partite più alla portata ma tu la partita l'hai vista è una domanda che ti faccio sì che l'ho vista due volte l'ho vista come ho fatto ha visto pure la replica no ho visto la prima volta la partita non potevo prendere appunti quindi l'ho rivista un'altra volta due volte andiamo avanti prego allora entra mutandua 6 è ancora poco per valutarlo ma già abbiamo potuto vedere pochi tocchi piedi educati il ragazzo si farà a patto di non bruciarlo come altri nelle sedie minori a dopo 6 occasione mancata però perché non riesce a concretizzare in avanti però insomma a dopo non forse non ieri evidentemente ma meglio molto meglio di chi l'ha sostituito entra De Iola infatti 5 rientra anche il Messi di San Gavino che riesce a rimediare un giallo inutile dopo essere riuscito a perdere chi doveva marcare in una zona molto pericolosa ma con Bu mi dispiace qua scendiamo ancora 4 non ci siamo proprio se questo è il rendimento è come giocare con un uomo in meno entra Marine dal 65esimo 7 e mezzo rigore calciato con lucidità estrema poi un tiro da fuori che poteva anche profumare di altri due punti magari fosse stato beh allora Augello 6 non riesce a fare male nonostante sia costretto a tornare frequentemente indietro penso se perdevamo 0 a meno 0 sotto 0 mi conoscete come sono eh vabbè ma così è troppo dai prego allora entra Luvumbo 6 come immaginavo e presumevo rende meglio da subentrante creando scompiglio nella difesa bianconera che non è proprio composta da campionissimi ecco c'è da dire anche quello allora Viola 6 forse questa volta non sarà stata forse la migliore però è stato isolato completamente cioè era da solo quello che ha fatto l'ha fatto tutto da solo quindi insomma allora Gaetano 6 e mezzo il Cagliari respira riesce a uscire dall'apnea che lo schiacciava nella propria metà campo piccoli 7 si guadagna il rigore che ci regala un punto e non si risparmia fino allo stremo delle forze Nicola 6 e mezzo sembrava inizialmente i primi minuti forse la fotocopia di partite peggiori ecco poi riesce a leggere la partita interviene con i cambi inserendo tutti gli attaccanti a disposizione e quindi da quella marcia in più che ci voleva un po' di coraggio a volte non guasta va bene così brava va bene va bene va bene ma Carla allora allora Carla Carla sa stare Carla sa stare al gioco e sa battibeccare io posso dire che con il 99% della gradinata non siamo d'accordo con i voti che hai dato non fa niente brava te ne fai una ragione certo però è giusto che tu dica la tua però noi non siamo d'accordo che dobbiamo fare a volte ti proteggiamo in senso buono però stavolta mi pare proprio che te la si aiuta a cercare allora Daniel invece voglio sono curioso di sentire la partita vista da te buonasera Martina buonasera a tutti allora dopo la vittoria al Tardini di Parma abbiamo conquistato un punto d'oro contro la Juventus alla vigilia ci avrei messo la firma ad essere onesto allora partiamo nel primo tempo con una conclusione di Viola al sesto minuto che non sorprende però di Gregorio al quarto d'ora c'è l'episodio del rigore del fallo di mano di Luperto dove però viene diciamo contrastato da Gatti che lo fa scivolare e con le tocca praticamente con le unghie Vlaovic trasforma il rigore però Scufetta aveva anche intuito la traiettoria peccato poi il Cagliari secondo me ha sprecato almeno tre presupposti per poterla sbloccare anche nel primo tempo se penso a un contropiede di Piccoli che poteva servire Zappa tutto solo ma preferito per una conclusione che non ha nemmeno mirato lo specchio della porta Augello che è crossa e Piccoli stesso viene anticipato da Cambiaso Scufet è tornato il portiere delle ultime partite dello scorso anno perché ha compiuto qualche miracolo uno in particolare al ventiseiesimo sul mancino di Copminers ha messo per fortuna in calcio d'angolo poi in precedenza aveva anche parato un tiro di Conseissau diciamoci la verità se alla Juve li toglievate Conseissau non c'era praticamente niente a parer mio non era quella Juve degli anni precedenti con Conte o con Allegri per dire che vinceva quasi tutte le gare andiamo nella ripresa L'Uvumbo viene inserito al posto di Augello attorno al cinquantasettesimo minuto tenta un tiro ma trova diciamo la respinta di Gatti che si sostituisce a Di Gregorio e poi Piccoli che spreca diciamo da ottima posizione con un sinistro che viene murato allora poi cosa succede il Cagliari all'ottantaquattresimo trova il pari subito praticamente sei minuti dopo che Vlaovic si era divorato quel gol con il piatone ottima trasformazione di Marin che trasforma il rigore procurato da Piccoli che subisce fallo da Douglas Lewis e nel finale al novantacinquesimo la potevamo pure vincere con quel palo di Obert però finalmente ragazzi vediamo un Cagliari combattivo fino alla fine era il desiderio di tutti noi tifosi vederlo combattere per fare punti anche con le grandi speriamo bene per il proseguo del campionato va bene bravo bravo Daniel aspetta un attimo che non va a andare via Matteo prego hai vista la partita intanto sì ho visto la partita e ho visto 11 leoni in campo io non come stava dicendo Carla che silenzio che teneva le pagelle con i giocatori che comunque sono troppo basse secondo me perché una squadra che va a Torino a Torino contro la Juve che comunque è una squadra che gioca in Champions e tutto quanto abbiamo dimostrato di essere potenti abbiamo dimostrato di essere potenti e non siamo secondi a nessuno quando ha calciato il rigore Marin si è sentito un silenzio in tutto lo stadio vuol dire che noi siamo all'altezza di giocare contro le grandi e contro di tutti forza Cagliari sempre noi ci crediamo perché è una bella squadra bravo Martello diamo fiducia all'allenatore e continuiamo a sostenere la squadra fino alla fine è stato ipnotizzato da Martina vieni Martina è stato ipnotizzato l'hai ipnotizzato addirittura ha parlato benissimo Matteo si fa gli applausi da solo adesso va bene allora io direi che abbiamo il tempo di dare la linea al buon Ciro Antonio intanto si defila allora Ciro andiamo adesso c'è la sosta Roberto prima diceva che le soste a volte sono un po' pericolose sarà il caso anche del Cagliari però il Torino comunque deve venire qua è in crisi mentre noi per fortuna non lo siamo no il discorso che il Cagliari ha nove nazionali quindi mancheranno questi questi elementi quindi però il tempo visto che sta crescendo questo permetterà a Nicola di migliorare ancora di più la condizione di qualcuno perché come diceva qualcuno prima viola perché non prima anziché dopo l'allenatore è nello spogliatoio Italo questo non lo può confermare e quindi sa la condizione di ognuno viola all'inizio non era in quella condizione che ha adesso e ancora adesso ha un 65-70 minuti e quindi è giusto che lo usi quando è necessario e quando il tempo che possa dare la partita col Torino il Torino ha una buona squadra anche lei ha iniziato con un nuovo allenatore quindi sta memorizzando le sue teorie fuori subisce più gol e fa più gol ne ha dati sette e ne ha presi otto quindi ha un gioco aperto e quindi è una partita possibile devo fare una notazione che il nostro amico Sergio è venuto con una maglia granata porca miseria speriamo che sia di buon auspicio che buon auspicio allora un attimo solo Martina avvicinati ce l'hai già portata di microfono Italo perché Italo voleva aggiungere qualcosa sì volevo dire una cosa Ciro ha detto bene voglio solamente precisare una cosa che quando viene fatta una domanda da parte di chiunque da giornalisti anche dal presidente all'allenatore chiedendogli perché non ha schierato quello o non ha schierato quell'altro ma secondo lei mi scusi abbia pazienza ma secondo potrebbe anche giocare quell'altro l'allenatore si chiude al riccio non darà mai una risposta prettamente leale prettamente sincera anche se quello che dice lui può essere verificabile se non è in condizione lo vediamo tutti se sta dicendo la verità o meno se era infortunato lo sappiamo tutti se è una scelta tattica lui se vuole dare una spiegazione la darà se no non la darà a nessuno Viola era in condizione anche prima di poterlo Sergio vuoi aggiungere qualcosa su questo visto che hai aperto tu poi io ho aperto quel discorso secondo me però sono scelte anche coraggiose da parte dell'allenatore consideriamo che a Torino Marin è entrato a gara in corso e Marin è uno di quei giocatori che al momento stava giocando meglio ecco può darsi che l'allenatore e questo chiaramente Italo lo sa durante la settimana veda qualche cosa che noi chiaramente essendo esterni non vediamo potrebbe esserci non so uno stato d'animo dovuto a problemi natti immediatamente in famiglia o per lui che lo portano un po' fuori della partita allora da chi lo sa sono solo loro se non sono queste cose nascoste non può nasconderle Lorena mi entiti qua al centro vieni qua scusa Italo dobbiamo mandare la pubblicità per pazienza però volevo fare gli auguri a un caro amico il nostro caro amico Antonio espositi alla sua signora per i 50 anni di matrimonio auguri auguroni di cuore prego prego pubblicità ciao a tutti ciao a tutti i telespettatori di Radio Super Sound TV grazie ciao a tutti pubblicità eccoci qua siamo tornati allora cara Martina meno male che abbiamo vinto meno male dite che abbiamo vinto perché per me quel pareggio ah ok infatti quel pareggio per me è una vittoria se proprio me lo fate passare ci sta ci sta per me è una vittoria allora che c'è che c'è allora vuoi parlare del Torino e poi parla Sergio partiamo da lì non è un problema prego vai da raggiungi Roberto vabbè che devi dire scusami Martina stavo aspettando prego parla della partita col Torino potrei parlare anche di lei di lei di lei in sardo vuol dire lei eh beh certo prego allora innanzitutto a me non mi è piaciuta l'antisportività di Motta non so se avete visto la scena mentre fa un fallo che tra l'altro Mamelia era la munizione di Gatti a Ugello ecco ho visto Motta ragazzi miei non se l'ha vista ho detto che ha detto continuate continuate quella scena non mi è piaciuta da un allenatore come Motta proprio Ciro è antisportività ieri abbiamo parlato al telefono se non sbaglio con Ciro non mi è piaciuto quel gesto perché poi Gatti è stato anche buttato via la palla il fallo c'era per quanto riguarda la partita in sé e abbiamo visto che io tu lo sai che hai criticato Davide Nicola ma l'abbiamo anche voluto gli amammini siamo stati molto prima che arrivasse anche il nostro amico Ciro però devo dire la verità che ieri come diceva Sergio ha avuto il coraggio di lasciare non uno ma tre pedine in panchina perché anche Luvumbo Martina è un potenziale titolare insieme a Marin e a Gaetano cioè non si può dire che non ha gli attributi Davide Nicola perché lasciare tre pedine c'è tre potenziali titolari Martina in panchina a Torino e subentrare tra il 57esimo e il 65esimo e avere i cosiddetti quadrati dunque non possiamo dire niente come diceva altre volte l'amico Torino Torino il Torino c'è fra due settimane giocheremo alle 18 se non sbaglio giusto alle 18 di domenica domenica 20 ottobre questa sosta riconfermo quello che ho detto prima Martina non mi piace tra l'altro questa è una copettina tipo la copettina gelato però proprio quando si scala fuori su frigo proprio a me è una coppa io parlo che stardo sono a pari che ti riguardano prego andiamo avanti stiamo perdendo tempo non mi piace a me questa coppa perché è una coppa degli sponsor Enrico capite è una cioè noi eravamo lanciati non dico in Europa League però era una squadra che era bella grintosa si stava creando proprio l'ammalgama e questa sosta fa bene agli sponsor fa bene alla Lega a calcio io questa questa coppa proprio cioè io io il Torino il Torino è passato dai Robè Torino facciamo dire agli altri andiamo avanti vai andiamo avanti Martino tu non stai capendo più niente non stai capendo Roberto non stai capendo più niente Sergio De Muro inviati tutto a sport allora questa sosta va bene non va bene il Torino come arriverà fra 15 giorni qui a Cagliari è sempre è sempre un punto interrogativo il discorso della sosta anche perché il Cagliari diciamo adesso è in striscia positiva dopo due due giornate nelle quali ha conquistato quattro punti tra l'altro sempre e comunque in trasferta che dire del Torino il Torino io l'ho visto contro l'Inter teniamo conto che non ci sarà Zapata che ha problemi al crociato quindi difficilmente anzi difficilmente sicuramente non ci sarà a Cagliari il Torino è una squadra che ha iniziato bene diciamo che ha assimilato abbastanza bene quelle che sono le direttive del nuovo allenatore che è Vanuli che l'avevamo visto a Venezia già Vanuli un allenatore buono c'è contestazione a Torino perché me lo dicono i colleghi i colleghi chiaramente di tutto sforzo sono vicini a Juventus e Torino c'è sempre contestazione nonostante la squadra vada bene nei confronti del presidente Cairo sì 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 anche per quello la cessione di Bellanova perché Roberto non si è sentito la cessione di Bellanova potrebbe essere anche uno dei motivi comunque Cairo è contestato ormai da dieci anni nella sede torinista e quindi ecco sarà una partita comunque difficile come tutte le partite di Serie A anche quando si gioca con l'ultima in classifica però la tendenza al momento prima della sosta è favorevole al Cagliari come ho detto prima Nicola è riuscito a trovare secondo me una sorta di bandolo della matassa utilizzando quei giocatori che rendono e quindi abbiamo parlato appunto di Viola abbiamo parlato dello stesso Marin Marin è entrato negli ultimi due partite nel secondo tempo a Parma ha fatto un euro goal a Torino è stato glaciale nel realizzare in un campo in un campo avverso il calcio di rigore contro una squadra ricordo che non aveva ancora subito Retti quindi doppia come dire doppia vittoria Rosso-Blu perché poi ha salvato Marin il record di Reginato il record iniziale di Reginato che resiste dal 66-67 712 minuti perché si stavano avvicinando i portieri della Juventus però attenzione Reginato in quell'occasione giocò da solo qui hanno giocato Di Gregorio e Perin quindi hanno giocato in due a difendere la porta della Juventus quindi ancora più valore al record dell'amico Reginato che conosco personalmente bella bella osservazione bravo allora ascoltiamo il buon Marco prima di fare questo lasciamo anche un salutone prima o poi avremo il piacere di avere l'ospite qua a Don Eugenio il grande Don Eugenio che salutiamo salutiamo con affetto e speriamo di averla un giorno qui con noi per parlare insomma delle belle attività che avvengono qui nella grande benavigliosa Basilica di Nostra Signora di Bonaria allora Marco questo Torino arriva qua arrabbiato e poi un'altra cosa questa sosta fa bene o fa male a questo io su questo non mi pronuncio perché sinceramente come ha detto Sergio è difficile stabilire se la sosta può giovare o non giovare ad una squadra è un dilemma che anche a livello giornalistico è da anni quindi non so dare una risposta solo posso palizzare una certa preoccupazione per la prossima partita perché è vero che il Torino ha perso se non vado errato però se vai al ritroso delle altre partite ha vinto e ha vinto ha un narratore bravo intelligente sa amalgamare anche le specificità tecniche dei singoli giocatori e poi dispiega anche un bel gioco quindi sarà una partita per il mio difficile però alla luce dei due risultati esterni confido che la compagno del rosso possa sviluppare un gioco interessante credo che non ci saranno cambiamenti sostanziali sull'assetto tattico perché l'assetto tattico ha innovato sta producendo ottimi risultati mi auguro con Luigi Mirazia in contelligenza trovi il modo di capitalizzare tutte le specificità tecniche dei giocatori onde permettere di inibire le verità le ambizioni del turismo ottenere finalmente un risultato convincente anche in Cagliari ma ti ho visto un po' perplessa perché lo stai assecondando lo stai ti piace si va bene ma lei non si sbilancia ancora ma tra un po' di puntate si sbilancia però pure lei già la conosco allora Nicola invece ci parlerà dei siamo sempre sui diritti umani stiamo andando avanti con i vari articoli è il diritto umano che a cui siamo arrivati oggi è il sesto e dice hai i tuoi diritti ovunque tu vada è difficile pensarla se la pensiamo in considerazione della scena mondiale diciamo però di fatto questo è ciò che dice la dichiarazione universale dei diritti umani e mi riallaccio al discorso di prima sul miracolo di Natale dipende più dal fatto che siamo noi cittadini a garantire al nostro prossimo diciamo il fatto che i diritti i suoi diritti vengano tutelati rispetto al fatto che succeda qualcos'altro perché in fin dei conti questi si chiamano diritti umani perché sono della gente e della gente comune Ron Abar disse che i diritti umani devono divenire una realtà e non un sogno idealistico lo diventeranno solo nel momento in cui tutti quanti li conosciamo e ci facciamo da promotori per questi 30 articoli bene grazie Nicola allora adesso noi abbiamo il buon Gavino vieni poco più poco più più avanti parlaci del Torino via allora prima di parlare del Torino giustamente bisogna avere una diciamo un'immagine focalizzata totalmente della prestazione del Cagli per quanto riguarda infatti la prestazione mi auguro che sia una buona prestazione come quella che abbiamo visto contro la Juventus dunque se questo è il proseguimento del cammino io sono fiducioso io penso che diciamo un buon risultato aspetta non si sente la tua voce mi auguro che diciamo il Cagliari faccia un buon risultato perché comunque sono le squadre in cui il Cagliari è stato costruito obiettivamente sono le squadre in cui deve giocarsi il campionato non è contro la Juventus contro il Torino e tutte quelle che sono sotto del Cagliari a posto va a posto così allora Paolo Cagliari Torino è per me 2 a 1 colasce ma che ne sai e metti che funziona è ottimista 2 a 1 ma perché non dobbiamo sbilanciarci non ho capito anzi siccome noi non crediamo a queste cose è vero noi non crediamo alle superstizioni è vero Martino no no assolutamente quindi siccome noi non crediamo a queste cose tra un po' ti chiederò di far cantare il cantante il maestro Giacomo il maestro Giacomo è di un garbo che voi neanche conoscete io conosco questo signore ed è una persona garbatissima educatissima e gentilissima lo facciamo cantare fra poco perché porta bene il Torino mi hai detto prima giusto per non credo che schiedi tatticamente il Cagliari nella stessa maniera che ha fatto ieri non ci credo perché sono convinto di questo penso solamente che ha costretto all'allenatore della Vivendola ha costretto a spostare per un quarto d'ora c'era sulla sinistra a Locatelli perché non riusciva a svincolarsi dalla marcatura sperando che lasciasse al centro campo anche il giocatore del Cagliari ma invece ha fatto meno a stare al centro campo ma Locatelli non ha concluso poi l'ha cambiata addirittura sono convinta che le pause possano non fare bene perché comunque spezzano il ritmo e quindi non sono tanto d'accordo per quanto riguarda la partita io sono contro i facili entusiasmi perché comunque sebbene alcune partite nel complesso possano venire giù abbastanza bene però poi bisogna guardare le singolarità ci sono i singoli e alcuni singoli non sono poi così buoni quindi cerchiamo di non essere così entusiasti ecco sì allora con il Torino dobbiamo ripeto continuare a fare quanto di buono abbiamo fatto con il Parma contro la Juventus andiamo con i piedi di piombo chiaramente nel Torino mancheranno Maripan che è stato espulso contro l'Inter e Duvan Zapata perché si teme che si sia rotto il crociato ancora ci sono delle notizie che devono aggiornare chiaramente va bene grazie arriviamo a Giacomo che ovviamente come ho già detto a parte il buon umore ma porta bene allora che canzone mi auguro perché stai ridendo tu Martino meraviglioso allora guarda ti fa compagnia lei hai anche il microfono questo mai dare un microfono in mano a nessuno prego silenzio lei si faccia gli affaracci suoi prego io direi di partire direttamente dalla canzone dal ritornello senza fare l'incipit della canzone prego silenzio meraviglioso ma come non ti accorgi di quanto il mondo sia meraviglioso meraviglioso perfino il tuo dolore potrà apparire guarire poi meraviglioso ma guarda intorno a te che doni ti hanno fatto ti hanno inventato il mare tu dici non ho niente ti sembra niente il sole la vita l'amore meraviglioso porto a Cagliari bravo bravo complimenti restituisca il microfono alla Martina vada vada pure grazie un applauso vedi lui deve cantare il ritornello ecco detto questo Martina vieni Martina Lorena vieni raggiungetemi ci vediamo lunedì prossimo parleremo più dettagliatamente del Cagliari Cagliari Torino perché c'è la sosta grazie di essere stati con noi grazie a tutti ci vediamo lunedì prossimo non mancate ciao a tutti ciao vi voglio tutti bene ciao 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 a tutti